Cosa ho messo a cucinare? Spinaci, pomodoretto, fagioli, adesso aggiungerà anche un po' di concentrato di pomodoro e il mio pranzetto, cotto a bassa temperatura per nemmeno 6-7 minuti, sarà pronto. Continuo a bassa temperatura e aggiungo adesso il pomodoro. Ecco fatto, aggiungo il mio bel concentrato di pomodoro, aggiungerò adesso proprio due cucchiai di acqua, altri due minuti a bassa temperatura e il mio pranzetto sarà pronto. Controlliamo, ma che meraviglia, ancora sta cuocendo. Ho spento, lascio in autocottura, guardate che meraviglia il colore degli spinaci e dei pomodori, perché cuoce tutto a bassissima temperatura. Buonissimi, in pochissimo tempo, guardate che meraviglia. Buonissimi, in pochissimo tempo.